Oggi Aldo racconta 16 novembre. Guardare qui dove sono. 16 novembre 2021. Ricordarsi il mese e l'anno e la data soprattutto è molto importante per il girovago. Anzi, oggi posso chiamarmi il viandante perché sto cercando il sentiero del viandante. Sono esattamente alla frazione Borbino. Che bella questa frazione qui, bellissima. È vicino, appartenente al comune di Abbadia Lariana, provincia di Lecco. Aldo oggi è qui a cercare il sentiero del viandante. Nonostante che piova, c'è un po' di pioggia, ma ce la faccio. Ho il cappuccio. L'importante è che non prenda l'acqua, che non prenda l'acqua. Ecco qua, c'è ben illuminato. Sto cercando proprio il sentiero del viandante, però non quello che va all'ecco, ma bensì quello che va all'ierna, dall'altra parte opposta. L'ecco, devo dire la verità, non mi piace tanto quel sentiero lì. È poco percorribile su e giù. Ecco, ecco che l'ho visto. Sentiero del viandante. La via del viandante. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta a venire fino qua. Ecco, sono arrivato da quella via Ottola, da partendo a ricordarsi Frazione Borbino, prima della galleria. E devo dire che in questo momento, col fiatone, con l'ansia di perdermi in questi piccoli viuzzoli che ci sono, ho trovato il sentiero del viandante. Oggi sono così, nonostante la pioggerella, mi piace camminare. Anzi, sono meno stanco oggi che nel periodo estivo. Eccolo qua, il sentiero del viandante. Bellissimo. È ben percorribile, non è pericoloso. E devo dire che qui più avanti si incrocia con l'altro sentiero fatto da me tantissime volte per andare alla cascata del Schengen. E avete capito dove mi trovo? Al primo paese dopo l'ecco, a Badia Lallariana. Bello oggi. Questo sentiero qua l'ho trovato io molto percorribile. Nonostante il buio, qui ci vedo benissimo. Vediamo cosa c'è. Cosa c'è scritto lì? Cappelletta di Garofol. Garofol. Cappelletta di Garofol. Beh, mai sentita. Andrò, andrò. Poi c'è scritto Navegno. E sono luoghi per me sconosciuti, ma l'importante è che in questo momento sotto la pioggia, che sta veramente piovendo. Mi sono coperto col cappuccio del giubbotto. Aldo, il viandante nel sentiero del viandante. È appropriato a me questo sentiero e lo voglio far tutto, meno quello di Lecco ad Abbadia, ma gli altri sentieri sono percorribili. Bisogna stare attento. Quando si arriva a Lierna, c'è un sentiero alto e un sentiero basso del viandante. Il sentiero alto va al castello Olvezio, ma è più panoramico, diciamo. Ma è bello anche con lo basso. Ma io l'importante è che oggi consegna la mia traiettoria che sto facendo a me stesso, a me stesso, al sottoscritto viandante, perché voglio raggiungere il prossimo paese, il prossimo paese dopo Badia Lariana, Mandello dell'Ario, dove poi c'è il treno diretto, perché da poco tempo fa la fermata in quel paese, e mi porta a Milano centrale. L'importante è che io adesso guardo in giro, senza luci, ho la torcia, ma sono sicuro di me stesso. Sono sicuro e non ho paura e proseguo il mio cammino al sentiero del viandante. Il giorno, lo ripeto ancora perché altre volte ho sbagliato, 16 novembre 2021. Aldo, Aldo il viandante.